Siamo con Giovanni Spagna del Salvamento Accademi, ne approfittiamo che stiamo a Calvizzano all'asilo Maria Macchina per un convegno e ai giovani chiediamo di ricurgito si muore? Assolutamente no, dobbiamo sfatare questo mito, questo falso mito che di ricurgito si muore, assolutamente no perché è anche una questione di gravità quindi quando il bambino è in posizione supina perché le nuove linee guide ci impongono che il bambino deve stare in posizione supina per una questione di gravità il ricurgito quando viene su arriva ad un certo punto per riflesso riscende un'altra volta quindi assolutamente è da sfatare questo falso pensiero